Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi porca di quella porca è successa una cosa incredibile a Parco Pacifico ragazzi la casa moderna è appena stata completamente abbattuta ragazzi qualcosa di assurdo qualcosa di assurdo e di enorme è passato da qua ragazzi un nuovo simbolo un nuovo elemento del passaggio di questo enorme mostro che già aveva distrutto la quinta villa la quarta villa di spiagge snob e che adesso continua il suo percorso da spiagge a Parco Pacifico demolendo anche la casa moderna ci tenevo tantissimo a farvela vedere ringrazio i ragazzi che me lo hanno detto in tempo reale beh che dire ragazzi staremo a vedere quale sarà il suo prossimo obiettivo si aprono le scommesse secondo me sarà il palazzo di Pinnacoli vi ringrazio tantissimo per averlo guardato ragazzi un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live anche oggi ciao 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 ciao